Alessio Figara, Manuel Figara, RTRN, Club Evolution Live. Esplora dal vivo il sound dei Figara Bros, Club Evolution Live. È tornato e ti aspetta al Domus Beer, Via Alverata Dante Alighieri 18, Tarquinia, Viterbo, Club Evolution Live. Tutto il sound di Alessio e Manuel Figara, live on stage, al Domus Beer. Info line 328-6050-624, RTRN, è la radio ufficiale di Club Evolution Live. Questa settimana l'appuntamento con Club Evolution Live dura tutto il weekend. Venerdì 28 con Manuel Figara, sabato 29 con Next Beat, domenica 30 all'aperitivo con Alessio Figara.